Allora facciamo un pezzo del grande Raider Broker Roll che il maestro Sergio ha studiato di sana pianta l'ha conosciuto personalmente, l'ha seguito fuori da un concerto poi l'hanno arrestato però ha avuto l'onore di essere arrestato come stalker del grande Jerry Lewis ha mai stato Sergio con un classico del re del pianoforte rock'n'roll The Killer e il pezzo si chiama Grip Balls of Fire Baby Oh Oh No Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501